Avete presente Andrew Tate? Divertente, vivace, dice un sacco di cose orribili e sconnesse, però tutto sommato gli si vuole bene. Ecco, immaginate se prendessero il chip del suo cervello e lo inserissero all'interno di un ragazzino che non ha ancora capito che mettersi baffi così tipo Waluigi non fa figo. Da che l'avete già capito dove vi porto oggi. Questo campione mi è stato super segnato da tanti di voi in privato e risponde al nome di Jason Wojo su TikTok. Qui ha qualcosa come 2000 follower, mentre invece su YouTube ne conta più o meno 6000. E potremmo già finirla così, no? No, perché di Andrew Tate si fa subito a parlare. Forte come Kickboxer è uno dei più grossi troll che ci siano attualmente e chi lo prende sul serio come ispirazione fa paura a Darwin, così. Si fa subito ragazzi, ve l'ho detto. Ma qui no, qui abbiamo un pezzo da 90 e dobbiamo proprio scavare a fondo per capire bene ogni singolo dettaglio. Sto tizio dice di essere un milionario, di aver generato oltre 100 milioni online e io gli posso pure credere. Certo non crederò mai che possegga effettivamente tutte le macchine che fa vedere, non crederò mai che abbia tutti gli oggetti, incluse proprietà e cose che dice di possedere, perché qualsiasi persona vagamente ricca sa che quelle sono perdite. Quindi meno ne ha e meglio è. Questo perché essere ricchi e avere dei soldi in determinati anni sono cose molto diverse. Immagina pagare soltanto il bollo a tutte quelle macchine, anche se fossi ricco perderesti tutto il tuo tempo, tutta la tua vita tra uffici e cose del genere. E anche là dovresti fare come fa Cristiano Ronaldo, che è tutta un'altra cosa. Oppure immagina avere tutte queste grafiche fighe e comunque essere così insopportabile da fare 100 visual a video. Non riesco nemmeno a capire se stia usando la stessa foto tutte le volte o sia effettivamente la sua faccia ad essere addormentata, però c'è anche da dire che è la prima volta che vede un ricco non investire in pubblicità su Google Ads. L'ha fatto persino un babbione come me, sì ha il suo costo che è bello alto però. Questo tizio, se ho capito bene, fa tutti questi video per pubblicizzare quella che è la sua attività, con il videocorso ti insegna come diventare ricco perché io sono ricco e voglio che anche gli altri siano ricchi. Certo, proprio così il mondo funziona così, certo. Madonna, ma c'è ancora gente che vi paga. Esistono anche qua in Italia, però io mi stupisco sempre del fatto che ci siano delle persone che sul serio vedono qualcuno su TikTok dire, ah ti voglio rendere ricco e gli danno dei soldi. Ma non per TikTok, per questi presupposti. Ti assicuro, non c'è nessuna bado. Se uno come te riesce a soffiarmi la ragazza con qualche pezzo di latta e qualche foglio di carta, perché questo sono macchine e soldi, te la puoi tenere e mi divertirò a prendermi popcorn e a vedere come vi autodistruggete a vicenda. Per poi ovviamente dimenticarmi della vostra esistenza il secondo dopo. Ma puoi soffiarmi la ragazza? Cioè, solo con una frase del genere, se qualcuna si toglie il cappotto davanti a un tizio così, c'è da farla santa. Per carità, eh, non nego che di ragazze che cercano un soggetto del genere, che ha come proprio valore soltanto i soldi, ne sia pieno il mondo. Ecco, ve la potete tenere, esattamente come quel tipo di ragazze che cercano tutto in una persona, meno che i valori che questa persona ha. Quella gente ve la potete tenere, ve la regalo io. Perché i soldi li possono fare tutti, ma fare dei soldi e mantenere intatti quelli che sono i propri valori, specialmente se buoni, quello è essere veramente ricchi. Ed è ciò che fa di te un uomo e non un ragazzino. Se qualcuno preferisce mettere delle cose così superficiali davanti ai valori, sono io a metterlo fuori dalla porta. Non confondete la spazzatura che vi arriva con l'oro che trovate. Perché quelli come questo soggetto sono dei cassonetti ambulanti per le ragazze, che gli altri non vogliono per buoni motivi. Ma questa cosa non funziona soltanto con le ragazze, perché questo tizio fa dei discorsi che sono maschilistissimi. Funziona con le donne, con gli uomini, con le persone in generale, anche in amicizia. Il nostro eroe però è convinto anche di tante altre cose, come per esempio... Here is why it's easy for me to take your bitch. Yes, I'm skinny, but I have decent tone, you know, like I feel good, but here's the problem, is that all you guys that go to the gym, you're taking pre-workout, you got these stupid shaker bottles, making noises, you look like a bunch of fucking idiots. You need to have a high income skill set, and you saying to me that the gym is all that matters to me and it keeps me centralized, it means you have a lack of self-confidence. You need to stop going to the fucking gym, Allora, innanzitutto complimenti per il lavalier attaccato alla maglia con lo scotch, con la garza di infermiere, gran tocco di classe, fa molto milionario, non ci metto bocca, guarda, io ti consiglierei un microfono della Rode direzionale da montare sulla videocamera, o qualsiasi altra cosa, cioè se sei ricco, assumi dei registi, assumi qualcuno che si occupi di farti dei video migliori piuttosto che sta roba da oratorio. Ah, dimenticavo. Immagina a dover scegliere tra lavoro e palestra e non poter fare entrambi e dire di essere ricco. No, sto dicendo che non sia ricco, sto dicendo che le sue frasi sono stupide. La cosa bella è che tenta anche di fare il chad reagendo ai video dei tizi che giustamente gli rispondono per le rime su YouTube America e che lo umiliano giustamente. Ed è così tanto chad che i suddetti tizi vanno nella sezione commenti del loro video, lo piano in giro e hanno più commenti di quelli che riceve lui nel suo stesso canale. Questi tizi hanno più commenti di risposta, del suo intero video. Ma la cosa più comica è che questo tizio preme costantemente sul fatto che tu debba avere per forza come minimo 10.000 dollari guarda caso un numero che fa titolo 10.000 dollari al mese per poterti permettere di poter sostenere una relazione con una ragazza, per poter fare tipo qualsiasi cosa nella vita e in generale vivere una vita tranquilla. Adesso le cose sono due. O questo tizio è complessatissimo per delle cose che gli sono successe in passato e non stento a crederlo. Oppure vuole venderti qualcosa. Io spero e propendo per la seconda. E ribadisco che per me questo tizio i soldi ce li può pure avere. Il problema sono le cose che dice. Perché sì, come in campagna elettorale, la devi sempre sparare più grossa di quello che poi effettivamente fai. Il punto è proprio le strane ossessioni che questo tizio dimostra di avere. È ossessionato col parlare di come sarebbe in grado di rubare la ragazza altrui, come se fosse automaticamente un obiettivo da poter raggiungere perché altrimenti non si è realizzato. Immagino avere sto tizio come amico. Deve essere una festa. Mi sembra ovvio, ragazzi, farvi quei discorsi che si fanno sempre davanti a questi video. Come per esempio, guarda che conta di più il carattere, guarda che non si trattano così, vabbè, bla bla bla. Il punto qui è che questo tizio, insieme a tutti quelli che sui social diffondono questi messaggi distorti, fanno passare tutta questa serie di cose che sì, alcune persone raggiungono nel corso della vita. Ma non sono tutto, e ve lo dice una persona che sta cercando di raggiungere queste cose, ma non sono tutto e soprattutto non definiscono niente di te come persona se non soltanto il fatto che magari ti sei impegnato in qualcosa. Ma ti potrebbe anche andare male. Non per questo sei un fallito. Però, capito? Hai 19 anni e non sei sulla tua supercar? Che pena. Deve aver sbagliato tutto nella vita. Vieni da me, segui me, che ti faccio diventare ricco. Uscivo con una ragazza un po' di tempo fa, faceva tutta questa serie di cose, no? Era di Milano. Famiglia normalissima, genitori, lavoratori che hanno sempre lavorato in vita loro, mi sembra che il padre lavorasse in fabbrica e la mamma facesse l'insegnante. Stava costantemente a parlarmi, questa qui, del fatto che, ah, tutti i miei coetanei sono stupidi, non capiscono quanto io sia visionaria perché ho iniziato questo percorso che mi è stato offerto in direct su Instagram da redatto per motivi legali. E adesso posso fare quello che voglio, nessuno, come me e i miei compagni, che non sono colleghi, perché non siamo sotto contratto, ma compagni di viaggio. Due settimane dopo avermi detto questa frase, il suo leader ha lasciato tutti a casa con delle situazioni legali molto strane da risolvere perché semplicemente aveva venduto tutto quanto perché si era rivelata tutta quanto una serie di reti di cose strane online in cui prendeva tutti questi ragazzini di 18, 19, 20 anni e gli faceva vendere dei pacchetti alla gente ma poi si è rivelato essere uno schema piramidale, si è rivelato essere tutta questa serie di cose. Eh, non sto dicendo che questo tizio di video faccia schema piramidali, per carità di Dio, non lo sto affermando questo. Non vi dico neanche che faccia qualcosa di illegale perché probabilmente quello che fa è legalissimo. Vi sto soltanto raccontando una mia esperienza perché il mood mi ricorda molto questa persona che conoscevo e soprattutto sta di fatto che questa tizia che frequentavo è che è stata prontamente messa da me alla porta per questo suo atteggiamento spocchioso, faceva tutti questi discorsi simili perché era entrata all'interno di una sorta di bolla di guru e quindi parlarci normalmente era quasi impossibile ormai. E' stato anche deprimente dover vedere i suoi genitori pagare con dei soldi guadagnati le multe della figlia che voleva fare la furba e che semplicemente non voleva capire che guadagnare online è tranquillamente possibile ma ci vuole fatica, ci vuole tempo, ci vuole anche tutta una serie di conoscenze, non è che arriva quello che ti contatta su Instagram e ti dice ah vuoi diventare ricco perché nessuno vuole seguire il nostro metodo e ci sarà un motivo. Questa ragazza che conoscevo era il tipico esempio di ragazza che si fa bindolare da quattro macchine da un soggetto del genere e che questo tizio si può rubare come dice lui. Una scema. Ma onestamente vedere questi video in cui si grandeggia con lo scotch sul petto per tenere un microfono tra l'altro col filo vabbè mi fa provare una pena per lui che non finisce più cioè nel senso immagina aver bisogno dei soldi per scottare. Mai avuto bisogno di mezzo centesimo per queste cose ragazzi e vi consiglio di non averne mai bisogno perché altrimenti sì in un primo momento potrebbe anche funzionare. Il problema è che nel lungo termine vi circonderete solo di persone sia a livello relazionale che proprio di amicizie che stanno lì soltanto nel caso avviate i soldi e nel caso questa cosa non sia più disponibile quelle persone stavano lì e vi apprezzavano perché come unico valore avevate i soldi fine per scroccarvi roba per scroccarvi cose per farvi dire ah sì conosco quello lì ah 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 e poi magari li trovi spalle oh sto scemo e mi dai soldi per il resto sarete soli e non vi sto dicendo di fare soldi e anzi gonfiatevi di soldi come di tacchini ma non diventate di tacchini come questo tizio e ultimissimo reminder se avete tutta questa voglia di rubare le ragazze agli altri ricordatevi di andare in palestra perché se una cosa del genere succedesse l'uno come me o anche meno calmo insomma la tizia si ritrova single tu che mi hai sbeffeggiato in questa maniera ti sei preso gioco di me e anche magari della mia situazione economica che magari non conosci nemmeno ripeto lei rimane single però guidare uno supercar dopo essere stati redatto per motivi legali mi pare molto difficile ecco retaggio del sud mai abbandonarlo grazie a tutti per aver guardato e ascoltato questo clown e quell'altro nei video noi ci vediamo alla prossima grazie a tutti